Giulia Delellis sta male al GF VIP, la fidanzata di Damante è preoccupata Grande fratello VIP, Giulia Delellis, malore alla schiena per la fidanzata di Andrea Damante. Non sono ore serene per Giulia Delellis. La concorrente del grande fratello VIP si sente poco bene da diverse ore. Già da ieri, la fidanzata di Andrea Damante ha mostrato un po' di malessere a causa di un forte mal di testa. Stare a riposo sembra non esserle servito a nulla, poiché la ragazza si è svegliata con alcuni dolori anche alla schiena. A quanto pare, la giovanissima Yeffina non sta affatto bene, tanto da aver richiesto l'intervento del medico. In casa è infatti atteso un dottore, chiamato dal reality show per poter fare una puntura all'ex corteggiatrice. Nonostante ciò, però, la diretta interessata non riesce a tranquillizzarsi. Oltre al fastidio che sicuramente le sta causando il dolore alla schiena, la Delellis è anche molto preoccupata. Giulia Delellis ha il mal di schiena, arriva un dottore al grande fratello VIP. Al fianco di Giulia Delellis, da questa mattina, che Raffaello Tononno. L'opinionista sta cercando di tranquillizzare la ragazza nel migliore dei modi, dandole anche alcuni consigli su come alleviare il fastidio. La fidanzata di Damante è preoccupata perché ha paura che questo forte dolore non le passi in tempo per la finale, che è attesa per lunedì 4 dicembre 2017. In ogni caso, Tonon cerca di farla calmare e di distrarla chiedendole alcune cose sulla sua vita al di fuori della casa del grande fratello VIP. Raffaello le chiede come ha intenzione di trascorrere il Natale insieme al suo Andrea insieme arrivano anche a parlare di ciò che potrebbe aver fatto Cristiano Malgioglio dopo essere tornato nella sua Milano. Grande fratello VIP, Giulia Delellis sta male, preoccupazione per la finale. Insomma, l'ultima settimana all'interno della casa più spiata d'Italia non sembra promettere affatto bene per la bellissima Giulia. In ogni caso, quasi sicuramente, riuscirà a rimettersi in forma al più presto, tornando ad essere parte integranti del reality show, divertendosi insieme. Grazie a tutti!